L'infertilità è una prova molto dura per la coppia e a volte l'unica soluzione è una persona estranea che diventerà vostro donatore. L'avodonazione è un gesto d'amore. Se io potrebbe essere in due volte più, io potrebbe essere in due volte più. Mi piace proprio, per le donne, che si sono disegnati, che si sono disegnati, che si sono disegnati in un programma, in un programma di donore, in un programma di sottotitore matrimonio, per le loro capire che non è vero, non è vero, è sicuro. Se chi è andato nel suo valore, quindi, che prima di cui vi aiutare i nostri aiutati, vi aiutare anche i nostri amici, che non può sbagliare matrimonialmente. E questo è importante. E io credo che... io ho chiesto in programma, io ho chiesto in programma per aiutare. Da, io ho otto una delle cose, ma queste cose vanno per aiutare il mio bambino. E' così che io sono venuto a aiutare le donne che vogliono avere un bambino e sono venuto a aiutare a loro per in qualche modo abbandonare il suo bambino. E il più per il più non dà il meno, solo il meno per il meno può dare il più. Nel database dei donatori della Biotex.com ci sono più di 500 donatori diversi, ma tutti hanno una cosa in comune. Il desiderio di aiutare le donne che non riescono a scoprire la gioia della maternità. Abbiamo creato un metodo unico per la selezione dei donatori. Studiamo i dati antropometrici dei futuri genitori e creiamo un modello virtuale del viso e corpo che potrebbe avere il vostro bambino. Dopodiché confrontiamo il risultato ottenuto e scegliamo il donatore ideale per voi. Un'altra cosa è un'altra cosa che vogliono, un'altra cosa che vogliono, una cosa che vogliono. La clinica Biotex.com ha un gran numero di richieste di chi vuole diventare donatore. Ogni giorno da noi vengono all'incirca 20 donatori, ma solo 3-5 di loro passano i nostri controlli, cioè lo screening genetico, esami per le malattie, per la salute psicologica e psicosomatica e salute in generale. Una nostra donatrice deve avere almeno un figlio sano, nato in modo naturale. La donatrice deve essere giovane perché la quantità e la qualità degli ovociti è migliore nell'età inferiore ai 30 anni e così ci sono più possibilità di concepire un bambino sano. Veronica ha 20 anni. Le sue ovai adesso sono al picco della loro capacità riproduttiva, anche senza ulteriori stimolazioni. La procedura del prelievo ovocitario si chiama Pick Up ed è assolutamente sicura e non prevede l'intervento chirurgico. Alla donatrice viene fatta l'anestesia totale e gli ovociti vengono prelevati via vaginale con un ago sottile. La clinica Biotex.com lavora solo con ovociti freschi che aumentano notevolmente le possibilità di successo. Abbiamo contratti molto flessibili e adatti anche a chi vuole fare uno o due tentativi di fecondazione eterologa e poi passare alla maternità surrogata senza perdere i soldi ed avere il figlio tanto desiderato. I nostri pazienti hanno l'opportunità di scegliere il tipo di trattamento adatto alle loro esigenze e possibilità economiche. Il contratto economico prevede un tentativo della fecondazione assistita e del transfert embrionale. Poi c'è il contratto doppio che prevede due tentativi e l'ultimo contratto successo assicurato con la possibilità di passare alla maternità surrogata dopo due tentativi falliti. Questo contratto include il servizio tutto incluso. Questo significa che voi riceverete tutti i servizi necessari per il vostro trattamento senza spese aggiuntive. Sono inclusi il trasporto da e per l'aeroporto, l'alloggio in un albergo confortevole, l'alimentazione, servizio di una traduttrice per tutto il periodo dello svolgimento del programma a partire dalla visita medica e firma dei documenti alla gita turistica per la città. Grazie al nostro grande database dei donatori possiamo offrirvi un donatore scelto con un metodo unico. Potrete scegliere il colore degli occhi del vostro donatore, la forma delle labbra, sapere le sue abitudini e gli hobby. Sarete orgogliosi del vostro bambino. E tutto comincia da Biotex.com. Non esiste l'infertilità incurabile. Sarete orgogliosi del vostro donatore,